Un caro saluto, un caro saluto da Diego Fusaro e adesso si torna a parlare di emergenza epidemica. In particolare la stampa di Torino, quotidiano Sabaudo par excellence, parla di un aumento dei casi del 96% nelle ultime settimane con addirittura nuovi ricoveri in aumento, nuove varianti, la variante pirola è stata definita in maniera inevitabilmente divertente da un certo punto di vista, il nome fa sorridere, la vicenda di per sé no naturalmente e allora ci domandiamo se lungi dall'essere terminata l'emergenza stia per ripartire. Chi ha letto il mio libro Golpe Globale, Capitalismo Terapeutico e Grande Reset sa bene che la tesi di fondo è che dopo la fase 2 non c'è la fine dell'emergenza ma c'è puntualmente il ritorno alla fase 1, secondo quella che abbiamo definito la pandemia del rocchetto o dello yo-yo come lo yo-yo avanza e poi ritorna su se stesso così l'epidemia nei tre anni con cui l'abbiamo conosciuta e sperimentata sempre ha assunto questo andamento, dalla fase 2 alla fase 1, dalla fase 2 alla fase 1 e così via potenzialmente all'infinito e non ci stupiremmo davvero se nei prossimi mesi l'emergenza tornasse a mordere anche perché la tesi che abbiamo sostenuto in Golpe Globale è quella secondo cui l'emergenza permanente è la nuova normalità sicché il capitalismo terapeutico vive dell'emergenza e la utilizza a mo' di metodo di governo governare con l'emergenza permette di far sì che l'inaccettabile nella normalità si volga nell'inevitabile nell'emergenza senza emergenza non si sarebbero potute imporre misure liberticide e repressive come i confinamenti domiciliari coatti o l'infame tessera verde, con l'emergenza non solo diventa possibile imporli ma vengono magari anche invocati dalla popolazione come mezzi per garantire la sicurezza, questo è il grande tema dunque ci domandiamo se l'emergenza tornerà a mordere nei prossimi mesi si parla appunto di un aumento dei casi e non ci stupiremmo davvero se si tornasse presto alla fase 1 è un'ipotesi naturalmente la nostra e tuttavia crediamo non debba essere in alcun modo sottovalutata grazie grazie